Ciclopampornia Buonasera, buonasera Tutti i video ascoltatori di Liberi.tv La tv web che mantiene molto informata A tutta la sua rete di persone che la seguono In quanto alla situazione del Venezuela Veramente da un po' di tempo che non ci trovavamo più Ma nuovamente siamo qui con voi Siamo qui con voi in una giornata molto dura E' difficile per il Venezuela Per quanto si sa che domattina il paese sarà un altro Un altro ancora che inizia ad attraversare Una lunga notte di orrore Con un regime di orrore e di terrore Che con la vincita dell'illegittimo Maduro Andrà verso una strada sconosciuta Sconosciuta nell'orizzontalità della vita Della storia e delle attuali circostanze Indubbiamente sappiamo perché Su questa Liberi.tv, su questa web tv Abbiamo fatto qualche anno fa un programma molto preciso Su come era instaurata la frode elettorale nel Venezuela Oggi c'è un nuovo partito Che è il partito CLAP Cioè il partito di coloro che devono avere il carnet Per la tessera Per poter avere alimenti, medicine E tutti i benefici che si possano conseguire Essendo proprio ad asservire il regime Indubbiamente noi non critichiamo queste persone Perché queste persone hanno solo questa possibilità Di trovare la sopravvivenza Noi come sempre Aires Venn, appoglio internazionale alla resistenza venezuelana Ringrazia profondamente queste occasioni Che ci dà Liberi.tv Questa frode elettorale Potremmo domani sapere per esempio Che ci sono 8 milioni di voti Come erano già successi E come l'abbiamo detto Che nel mese di luglio avevano definito una cifra Coloro che erano andati a firmare per un plebiscito Che la pseudo opposizione collaborazionista Ed elettorera Traditrice E assolutamente colpevole Di questo holodomor Olocausto Esterminio per fame De nutrizione Mala sanità Povertà Miseria E morte Sta attraversando il popolo venezuelano Inizia questo regime di orrore e di terrore Che ancora non ha mostrato tutta la sua crudeltà per esteso E sappiamo perfettamente bene Non ci stupirebbe la faccenda del frau Iris Ben nel suo blog Gruppo irisben.wordpress.com Ha chiamato all'astenzione Ed ha sostenuto l'astenzionismo già in diverse volte E anche via liberi.tv L'abbiamo espresso in un modo molto esplicito Sicuramente sappiamo che nell'America Latina In questo momento c'è una situazione anche geopolitica complessa Con questa situazione di questo castrocomunismo Di taglio stalinista Per quanto sia configurata la sua propria opposizione E comunque in qualche modo L'opposizione non ha voluto per questa volta Partecipare una parte di essa alle elezioni E però noi di già Iris Ben si pronuncia Contro il loro opportunismo Di prendersi il grande astenzionismo Se succederà come se fosse una loro vittoria Perché come lo sapete molto bene Iris Ben ha sempre espresso Dubiamente una lotta Siamo resistenza propositiva non violenta Ma è arrivato il momento in cui abbiamo iniziato a parlare Della defenestrazione di tutta la casa politicante Elettorea venezuelana senza eccezione In quanto nessun continuismo Dovrebbe poter far nascere Quella nuova Venezuela che noi decretiamo Si è nata l'8 ottobre del 2012 Indubbiamente ci sono anche grandi aspettative Perché quest'anno e anche dall'anno scorso La comunità europea e diverse istituzioni a livello internazionale si sono mosse Abbiamo da molti anni detto che era l'assordante Il silenzio delle organizzazioni internazionali In questo momento se ne occupano Ma non se ne occupano perché il paese possa uscire Verso una strada di democrazia Stato di diritto, di diritti umani Laica, un federalismo decentralizzato Pensi verso un continuismo che possa garantire l'impunità Di un narco Stato e dei narco corrotti Che rappresentano un regime delinquenzial Militar delinquenzial Con civili in mezzo Ma veramente di trafficanti Questo l'abbiamo detto in diverse opportunità In questo momento dicevo La situazione geopolitica è anche delicata Perché nel Nicaragua ci sono la gioventù Così come la nostra eroica era uscita per strada Ed è stata uccisa Ed è stata sacrificata le loro vite Dal regime ugualmente in Nicaragua Stanno succedendo queste cose Perché sono unificate Il castrismo li unifica nella loro crudeltà Sono regimi molto crudeli e molto impietosi In questo momento anche i prigionieri politici Qualche giorno fa un gruppo di essi si sono sollevati Nel carcere politico dell'elicoide del Sedin Si chiama il servizio di intelligenza Del servizio di intelligenza Della polizia, dell'esercito Però abbiamo e chiediamo anche in questo momento L'integrità della loro vita Così come abbiamo chiesto l'integrità della vita Di Juan Carlo Caguaripano Dicevo il po' la situazione geopolitica Del comunicato In quanto c'è anche la situazione In Colombia E del candidato della FARC Petro In qualche modo Avete visto dei servizi Dove i venezuelani passano Per centinaia Per migliaia Verso la Colombia Attraverso un ponte Passano anche Verso il Brasile Certuni fanno anche strade A piedi In una migrazione Forzata Dai libidi del paese Per quanto sappiamo benissimo Che il comunismo sa gestire Alla perfezione L'arma della FARC Volevo Volevo veramente Oltre a dire Questa situazione Di Sicuramente Fronte elettorale Cioè A cosa noi andremo incontro Perché Probabilmente La situazione È difficile Da capire Come sempre La chiamiamo Non è solo Quello che dicono I giornali O le Neutralità Per una volta Del manifesto È molto Più Di quanto Si creda Perché Perché potrebbe Qua su Liberi TV Abbiamo parlato Noi di diversi Colpi di Stato Con le diverse Origini Le modalità Le abbiamo Spiegate Ma in questo Momento Potrebbe Anche Darsi Una specie Di Autocolpe O Di Colpe Mascherato Come lo potremmo Dire In quanto Sicuramente La situazione Internazionale Ringraziamo Il dottor Antonio Tagliani Che se ne è occupato Grandemente Della situazione Dei venezuelani Certo Loro chiedono Elezioni Che si facciano elezioni Aires Vena Sempre detto Questo Non è La strada Non è Per andare Per uscire Da questa situazione In cui siamo Non sono Le elezioni Immediate Che poi Un sistema Elettorale Molto difficile È da smontare Come è Concepito La frode Ma comunque Lo ringraziamo Per questo Che cosa Può succedere Bene Una che domani Escano 8 milioni Di voti E che sono andati Massicciamente Ed eccetera Ben che Nel 2005 Questo lo avevamo Spiegato Abbiamo chiamato All'astenzione E praticamente Abbiamo Ci siamo riusciti Ad arrivare All'87% Poi L'opposizione Non seppe In quel momento Seppe Fra virgolette Cogliere Quest'occasione Perché semplicemente Negoziò Sotto banco Con il regime E quindi Non si fece La lotta Delle legittimità Di quel momento L'assemblea nazionale Era una Elezione Per l'assemblea nazionale Diventò Praticamente Tutta Ufficialista Questa volta Invece Oltre a quelle Ipotesi Che abbiamo Detto C'è Una situazione Curiosa Da una parte Trump Il presidente Nordamericano Trump Se ne è occupato Del Venezuela In diverse opportunità Non sempre Credo Si sia saputo O almeno Non abbiamo Airese Magari Non ha avuto L'informazione Completa Di sentire Quante volte Lui si è occupato Nei giornali italiani Però Essendo noi Informati Quotidianamente Della situazione Nostra Sappiamo Che anche Il senatore Marco Rubio Se ne è occupato Il 18 Di questo mese Il departamento Del tesoro Ha finalmente Diciamo Denunciato E dietro La traccia E credo Che in qualche modo Possano confiscare Beni Non soltanto A quello Che io chiamo Deopelo Cabulla Che si chiama Deodado Cabello Ma anche Alla moglie E a un fratello Quindi Si sta chiudendo Un po' Il cerchio Attorno A questi Narcotraficanti Ora Che cosa dicevo Dicevo Che ci potrebbe Stare Un'altra Situazione Che sarebbe Quella Che Veramente Volessero Togliersi Un po' Maduro Di mezzo Per quanto È veramente Rifiutato È veramente Disprezzato Nelle organizzazioni Internazionali E Loro Avrebbero Il gioco Perfetto Perché con La prostituente Che sarebbe L'assemblea nazionale Costituente In atto Totalmente Illegittima E incostituzionale Loro potrebbero Dire che Vanno a un processo Di riorganizzazione Dello stato Nazionale E quindi Passano A Nominare Chi è l'attuale Presidente Col suo fratello Che sono i fratelli Rodriguez Che Veramente Hanno dietro Di loro Una figura Molto Nefasta Di cui Molti anni fa Abbiamo parlato Per Liberi TV Che si chiama José Vicente Rangel Che potrebbe Stare Organizzando Questa Tramoglia Cioè Questa Come dire Questa Trappola Non trappola Questo cambiamento Questo mutamento Con questa Differenza Il narcostato Ha per esempio Una figura Nel carcere Che si chiama Walid Maclet Da molto tempo Anche lì Quando Non l'hanno Deportato Negli Stati Uniti Ma è stato Indiato Nel Venezuela Abbiamo fatto Commenti Su Liberi Punto TV Lui Deve Sostenere E Una parte Di questo Narcotraffico Ma che è Soprattutto Quello Che è In relazione Con il terrorismo Internazionale Quindi Walid Maclet Può proteggere Il Può proteggere Il vice Ministro Attuale Ma vorrebbe Prendere La 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 Signora Luisa Ortega Dias Questo è Un'alternativa Gli uni rubano Dall'erario Nazionale Gli altri Hanno Il Narcotraffico Per eccellenza Comunque Questa è Una Ipotesi L'altra Ipotesi È Che Giustamente Magari Spostando un attimo Maduro O con lui Chiamano A un processo Di unità Nazionale E quindi Includono Nell'assemblea Nazionale Prostituente E Gli attuali Deputati Dell'unità Democratica Dell'opposizione E passare Noi A questo Nuovo Sistema E comunque La situazione È drastica Noi Abbiamo detto Dichiarato Con dolore Ma con una Visione nostra Che consideriamo Molto vicina Alla verità Che diciamo Conoscerete la verità E la verità Vi farà liberi Come diceva Gesù Che Inizia Una tappa Di Orrore E di terrore Vogliamo Dire Che il signor Vergoglio Oggi Aveva un messaggio Da leggere Per il Venezuela E oramai È noto Pubblicamente Che Ha risparmiato Brani Delle righe E quindi Io vorrei leggere Il messaggio Completo Come doveva Essere E dice Desidero Dedicare Nuovamente Un particolare Ricordo All'amato Venezuela Con lo aiuto Dello Spirito Santo Tutti si adoperino Nella ricerca Di soluzioni Giuste E efficaci E pacifiche Alla grave Cris Umanitaria Politica E economica E sociale Che sta Stremando La popolazione Evitando La tentazione Del ricorso A qualsiasi Tipo Di violenza Incoraggio Le autorità Del paese Ad assicurare Il rispetto Della vita E dell'integrità Di ogni persona Specialmente Di quelle che Come i detenuti Sono sotto La loro responsabilità Bene Chi ha sentito Alla televisione Il messaggio Sa Che non è Questo Quindi Io Vi ringrazio Di questo Ascolto Noi comunque Consideriamo E siamo sempre Con il tema Di sottofondo Della frattura Militare Che abbiamo spiegato In diverse occasioni Ma questa volta Forse Si avvicina Pure per il Venezuela Una situazione Di Sostegno A una Frattura Più Di una Ruttura Una frattura Il sostegno Di Forse Esterne Quindi Della regione Come potrebbero essere Del Brasile E della Colombia Oppure Degli stessi Stati Uniti Benché Il Trump Come dicevo Il Senatore Marco Rubio Si sono impegnati Pubblicamente A dare dichiarazioni Su questa Tirannide Il Signor Pensi In qualche modo Ha riforzato Nuovamente Le forze Dell'opposizione E quindi Il Venezuela Continua Con le sue Immensissime Ricchezze Ad essere Un patio Per Una specie Di torta Per essere Spartita Recentemente Credo già Che il lunedì Di questa settimana È iniziato L'asportazione Verso L'Italia Del coltà Io Sicuramente Domani Ci saranno Notizie Di come Sono andate Le elezioni Noi sappiamo Bene Che il regime Vive Sulla menzogna Il terrore Sono proprio I loro Fattori Socioentropici L'odio E quindi Per Per stabilizzare Questo tavolo Contre Gambe C'è bisogno Della quarta Che sempre Questi che danno Alimentano Persino L'agonia Ed in questo caso Ci sono Anche Degli Empresari Che stanno Finanziando Quello che noi Chiamiamo I voli Borghesi O voli Cico Qui magari Possiamo In un altro Programma Fare più Spiegazione La possibilità Che In qualche Modo Continuino Le comunità Internazionali A chiamare A delle Impossibili Elezioni Bene Io Ti ringrazio Gianni Di questa Possibilità Ringrazio Liberi.tv Noi Come Aire Sven Sapete Che siamo Un gruppo Di cristiano Di preghiera Siamo nati Così Crediamo Pure che Sulle aree Sui cieli Del Venezuel C'è anche Una guerra Spirituale E anche Se questo Può causare Ilarità Voto Per analizzare Dal nostro Punto Di vista L'andazzo Di questa Gigantesca Fronda Elettorale Che solo Fa morire Venezuelani Molti Tanti 30.000 Per anno Minimo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.